Dottor Langella, il marchio Lublan della GL Oil si rega per quest'anno alla Pescara Calcio. Come mai questa scelta? Allora, la scelta, come ho detto in conferenza stampa, serve innanzitutto per coprire quest'altra parte dell'Adriatico, sperando che il Pescara Calcio ci aiuti in un'intesa di marketing, anche con la nostra società che cura i nostri interessi di marketing, sperando che abbiamo investito tanto sia in Serie B e con l'opzione di una risalita, principalmente quest'anno, in Serie A, perché abbiamo l'opzione anche sull'anno prossimo per il calcio che conta a Pescara. La sua attività, la sua famiglia, non è nuova al mondo del calcio? Sì, con la nostra famiglia abbiamo fatto già sponsorizzazioni nel calcio, partendo dal Napoli Calcio di Ferlaino, poi c'è stata una parentesi di un anno con il Savoia Calcio in Serie B, con l'altro brand sempre di famiglia che è Cialoils. Adesso puntiamo tutto su Lublan, che è il principale marchio della società GL Oil, di cui si è scissa dalla famiglia per intraprendere una strada nuova, sempre nel settore dei lubrificanti. Sperano con questo tipo di rapporto anche di entrare da questa parte, a noi farebbe enormemente piacere, perché significa poi ridare qualcosa a chi ti dà una mano e soprattutto continuare, magari avere una continuità di rapporto negli anni. Lei spera anche nel rinnovo automatico? Che vorrebbe dire Serie A? Ma noi ci speriamo sempre, tutti gli anni ci speriamo, e soprattutto cerchiamo di fare bene per sperarci, però quello è un qualcosa che normalmente si mette nei contratti e speriamo di rispettare questo accordo.